Ughetto mio! Ughetto mio! Mischina signora Mischina, come stronzata da questo dolore! E che è mio marito? Mio marito! Ughetto! 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 Che dolore! E' morto! E' morto così! E' morto perché io non ci piacevano i funghi! Poi a me piace raccogliere i funghi! Lo capisco! Io una fungia in giro manca la vita! Si vede signora! Lei è fungiosa! Mangiamo queste funghi! E da stare attenti! I funghi sono pericolosi! E c'era una funghi molenata! Ma io mi schifo! Si mangiavi! Ho detto! Ho detto! Ma certo! Ughetto! Ughetto! Il mio primo marito! Ughetto! Il primo? E il secondo? Ah! Mi schifo! Aspettate se mi confondo! Questo! Questo! Il secondo! Il suo si confondo! E' chiesto com'è morto! Ma è morto! Salvatore parla! Salvatore parla! Ma com'è morto Salvatore parla! Si mangiavi i funghi! Salvatore i funghi magari! Ce l'ho detto che io una fungia in giro manca la vita! L'ho capito! Lei è fungiosa! Ma da stare attenti! I funghi sono pericolosi! Ci siamo andati insieme a cogliere una fungia! Un funghetto! E una fungia! Una fungia! Una fungia! Una fungia! Una fungia! Disgraziata! Manca la sera che arrivavamo! Si finge una mangiata di funge! Avvelenata! Avvelenata mi scrive! Poi scrive! Poi scrive! Non è magari un pezzo, un tezzo marito! Ha un tezzo marito? Si un tezzo! Ha un tezzo! E' morto pure lui! C'entra piu stare qua! C'è piu stare qua! C'è piu stare qua! C'è piu stare qua! E' morto! Che funge magari! Carmelo! Carmelo! Che funge magari! Cammelo che funge! Che funge! Carmelo, il tezzo marito che è funge! Lei che ha cogito sempre funge! Il tezzo marito morì un cucchista! Oh! Disgraziato! Ah! E perché? Non si possa mangiare funge! Appoppiare la coppia! Oh! 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 Oh!